Si chiama Festa del Solstizio d'Estate ed è l'evento che celebra il coronamento dell'attività dell'annata sociale del Lions Club Tellino. Un'occasione di incontro conviviale all'aria aperta e di pianificazione dell'anno a venire e che lo scorso sabato ha avuto luogo presso l'osservatorio astronomico Giuseppe Piazzi a San Bernardo di Ponte in Valtellino. Un'opportunità di far sì che i vecchi officer del club nostro e dei club ospiti, perché abbiamo anche ospiti degli altri club della zona, si scambiano le consegne, si tiri un po' di conclusione sull'annata finita e ci si faccia gli auguri per la prossima. Durante l'incontro, coronato dalla cena e dall'osservazione notturna delle stelle, l'esibizione di un drone è oggetto di un service del Lions Club di Colico. Un senso di partecipazione e di servizio che a noi piace. Ho approfittato della festa che facciamo di solito in giugno del solstizio d'estate per abbinare questa presentazione e credo che sia il live motive della serata. Presente anche in Lions, Roberto Ardenghi, patron della ditta Seval e promotore dell'iniziativa di acquisto di questo prezioso strumento, dotato di una particolare termocamera, a disposizione ora di organismi preposti al controllo del territorio, tra questi Areu e Protezione Civile. Siamo finiti in America a comprare questo oggetto e alla fine, quando l'abbiamo acquistato, abbiamo scoperto, c'è stato detto che però era un'apparecchiatura considerata dell'esercito americano per cui abbiamo impiegato quasi sei mesi per esportarlo dall'America. Questo vuol dire però mettere a disposizione perché l'Areu, che si chiama così questa associazione regionale, loro in caso di chiamata possono andare anche fuori in regione. Il drone, del valore di 40.000 euro, è stato il protagonista della dimostrazione tenuta dagli operatori Nicole Mojana e Matteo Pedeferri. Altissime le sue potenzialità, tanto da poter essere utilizzato laddove, in caso di emergenza, l'ausilio dell'elicottero dovesse risultare proibitivo o troppo rischioso negli ambiti di ricerca di persone. Ricerca che, solitamente, viene organizzata per reticolati di operazione, delle vere e proprie mappature della superficie, che il drone, del peso complessivo di 4,5 kg, attraverso le due telecamere montate, passerà al vaglio. Fondamentalmente la termocamera più utile, soprattutto nelle nostre zone, rispetto a una normale telecamera, perché ovviamente immaginando una zona libera si può andare a vedere qualsiasi cosa, anche, tra virgolette, occhio nudo con la telecamera. Ovviamente pensando soprattutto ad una zona boschiva, piuttosto che avvicinandosi al lago, diventa molto più semplice individuare una persona in un bosco utilizzando il calore, quindi la termocamera, piuttosto che con una telecamera che non ci permetterebbe di vedere nulla. Presenti all'incontro anche il neosindaco di Ponte in Valtellina, Rino Vairetti, assieme al presidente di zona, Lorenzo Tavelli, quello del Lions Club Morbegno, Nicola Perregrini, e del Lions Club Bormio, Doriano Bassetto, oltre a circa 20 motociclisti appartenenti al club BMW di Milano.